Presidente, con la presentazione del libro di Angela Riviera, che è anche presidente della FIDAPA di Calascibetta, parte oggi questo ciclo di iniziative che vedrà protagoniste, scrittrici, pittrici e fotografi della FIDAPA. Questa è la serata di FIDAPA in arte. La nostra fidapina, che è anche la presidente della sezione di Calascibetta, è scrittrice, una nota scrittrice. Lei stasera ci parlerà di questo libro. Ci incontreremo con lei e insieme a lei sono venuti tre maestri, sempre da Calascibetta, uno che suona il flauto, l'altro il violino e l'altro la viola. Speriamo che allieteranno gli intervenuti con questo bel suono. Una FIDAPA sempre in movimento, presidente? In grande movimento, in grande evoluzione. Seguiamo le direttive nazionali ed internazionali. Speriamo di fare tutto quello che nel programma noi abbiamo già scritto e dato alle socie. Da qui alla conclusione dell'anno sociale della FIDAPA, che si conclude ad aprire il prossimo anno, quali altre iniziative sono in cantiere? Intanto questi incontri culturali con donne scrittrici. Poi avremo una mostra con opere di donne sempre della FIDAPA, pittrici, scultrici e anche una mostra di fotografie. E anche in fase di realizzazione un concorso per le voci del bel canto. Altre manifestazioni, il nostro premio FIDAPA Natale e poi abbiamo la cerimonia delle candele, che è la nostra cerimonia clou. Il giorno 20, seguendo il tema internazionale, avremo qui Sergio Cuomo, che è il presidente dell'associazione Mentoring Use Italia, per parlare di bullismo e soprattutto di bullismo al femminile. Perché si è visto statisticamente che è in fase di aumento questa tipologia. Stiamo coinvolgendo le scuole superiori, medie, sia della nostra Canigatti. Stiamo cercando di interessare anche le scuole fuori Canigattira, Calmunto, Naro, e tutte le sezioni che orbitano nel territorio agrigentino, per proprio promuovere questo, per dar voce alla non violenza e per promuovere un'iniziativa concreta che ci prospetterà proprio Sergio Cuomo. Un'altra iniziativa che siamo anche in fase di realizzazione è il dare un calcio alla violenza. Un'organizzazione, molto probabilmente per i primi di marzo, una partita di calcio o di calcetto tra tre squadre femminili, proprio per raccogliere dei fondi da destinare a donne che si trovano in casa, in centri di protezione per sottrarle agli abusi familiari. Quindi, come vede, la nostra FIDAPA si muove molto bene. È un'associazione che in realtà è un movimento, abbiamo detto, di opinione, è un movimento di opinione che promuove proprio la donna in tutti i campi, che si interessa dei problemi della donna. Angela Riviera è l'ospite della FIDAPA in questa iniziativa che fa parte di una serie di programmi che si concluderanno poi ad aprile. Finalista a Milano o prossima partecipante all'Expo? In sostanza, sempre in movimento, sempre attiva? Sì, sì. Beh, insomma, attiva sì, sicuramente, perché ho piacere di portare la letteratura e l'amore per l'arte, per la lettura, un po' in giro, in modo tale che ci sia un coinvolgimento soprattutto nelle nuove leve che sono ormai disabituati totalmente a leggere. E quindi da ciò nasce il piacere alla struttura del giallo che è più appetibile, che sa proporre contenuti magari di un certo spessore con una veste più leggera, manzoniana, insomma. Il libro che presenta stasera è Non te lo dirò mai. Ecco, vogliamo un po' parlarne? Sì, questo libro nasce un po' dalla mia esperienza quotidiana, dai contatti che ho con il mondo. E ruota, in pratica, attorno ad un'idea fin dove si può spingere una persona per troppo amore, frainteso o reale. E allora tutto si dipende attorno all'omicidio di una docente universitaria all'Università di Catania, chiaramente i riferimenti a fatti e persone sono puramente, squisitamente casuali. E da ciò abbiamo la possibilità di conoscere una casistica non indifferente di persone e personaggi, sicuramente con uno spessore ben particolare. ecco. Grazie.